Eccoci di nuovo in studio con, ricordiamolo, Alessandro Battilocchio che ci stava illustrando i suoi viaggi umanitari, perché possiamo definirli così, in varie zone colpite soprattutto dalla guerra, che vedono come protagonisti purtroppo di queste brutte vicende, soprattutto donne e bambini che con la guerra non dovrebbero entrarci assolutamente. Rapporti internazionali, quelli del comune di Tolfa, non soltanto del comune di Tolfa, di tutto il comprensorio, che non riguardano ovviamente soltanto zone ad alto rischio come il Libano e il Kosovo di cui abbiamo parlato poco fa, ma rapporti internazionali che riguardano anche comuni gemellati un po' più vicini. Qui introduciamo anche il sindaco di uno dei comuni gemellati con Tolfa, il sindaco Francis Cauchi di Anstilem, scusate la pronuncia, che proprio in questi giorni è ospite del comune del comprensorio insieme ad una piccola delegazione. Bene, bene, diciamo che nei miei dieci anni da sindaco abbiamo lavorato moltissimo sulle relazioni internazionali, adesso il nuovo sindaco Luigi Landi, assieme all'assessore alla cultura Cristiano Dionisi, alla delegata Ceccarelli, stanno proseguendo alla grande questo tipo di percorso con tante iniziative che appunto aprono i confini del nostro comune, che è un po' arroccato geograficamente, logisticamente, però è molto aperto al mondo. Quindi il sindaco Landi ci tiene particolarmente a rafforzare un po' tutte le relazioni internazionali, a partire appunto dal nostro gemellaggio, un gemellaggio molto stretto con la cittadina maltese di Anstilem. Noi in questi anni abbiamo portato a Malta circa 500 persone, abbiamo ospitato circa 600 persone provenienti da Anstilem, sempre sotto legite e con il supporto della Commissione europea. Quindi veramente un gemellaggio riuscire. Tra l'altro la nuova amministrazione del sindaco Landi sta anche valutando altri gemellaggi che appunto verranno poi in essere, una città aperta al mondo praticamente. Un gemellaggio iniziato nel 2002, come è nato l'amore fra Tolfa e Anstilem. Sì, buonasera e grazie per l'opportunità. Sì, il nostro gemellaggio è iniziato proprio nove anni fa. Il nostro villaggio Anstilem fa cercare un gemellaggio con una città, italiana. E poi abbiamo una lista che fa i gemellaggi italiani con altri paesi, in modo particolare in Malta. E a quel tempo noi ha detto questo mi prova anche la città di Tolfa. E la prima visita con la delegazione del sindaco a quel tempo, il signor Alessandro, con una delegazione che non fa venire al nostro villaggio e a quel tempo inizierà questo gemellaggio. Io penso che questo gemellaggio tra la città di Tolfa e la nostra piccola città di Anstilem è uno dei più forti gemellaggi tra i villaggi e la città di Malta con i villaggi e le città italiane. C'è tanti, tanti, tanti gemellaggi tra i due paesi, ma io penso che questo gemellaggio fra Anstilem e Tolfa è uno dei più forti gemellaggi di questi paesi. Io voglio dire anche che in questi nove anni c'erano tanti scambi fra le nostre scuole, per esempio la squadra di calcio, i giovani, la banda Giuseppe Verdi, la nostra banda San Giuseppe. C'erano tanti, tanti, tanti scambi e noi voglio che questo gemellaggio fa per sempre per le nostre due città. Anche adesso io conosco molto bene il presente sindaco Luigi Landi e anche il nostro pensiero è che continuerà questo gemellaggio per altri scambi fra le due città. Beh sicuramente un matrimonio finché morte non ci separi, amore a prima vista. E poi ecco si è creato un rapporto tra le due comunità che va veramente al di là del mero aspetto istituzionale perché ci sono tanti cittadini di Tolfa che si regano indipendentemente dalle organizzazioni ufficiali ad Anstilem, ci sono ragazzi che vanno a studiare l'inglese l'estate, ci sono maltesi che vengono, non parliamo di quando ci sono matrimoni o comunioni, battesimi, c'è sempre uno scambio continuo e questo forse è il segnale più concreto, il segnale più evidente che appunto è un gemellaggio che ha funzionato. Noi abbiamo coinvolto tante, tantissime realtà associative in queste attività di scambio internazionale e c'è stata una risposta bellissima, tra l'altro Anstilem è situato sull'isola di Gozo, quella che Omero definiva Ogigia, isola della ninfa Calypso, quindi un posto bellissimo con un mare splendido, un posto ricco di tradizioni, ricco di cultura, ricco di folklore col quale Tolfa ha deciso di fare questo gemellaggio, che è un qualcosa di riuscito, molto spesso i gemellaggi si riducono a degli scambi tra gli amministratori che sono importanti, però non coinvolgono troppo la cittadinanza. Noi siamo riusciti in questi anni a lanciare un segnale diverso, un segnale di grande apertura e di grande partecipazione e devo dire che il risultato è stato splendido. Poi c'è una chicca che a Anstilem... So che a Anstilem un po' di Tolfa è arrivato non soltanto tramite i cittadini, c'è qualcosa che rappresenta Tolfa. Spero che una volta c'è un matrimonio tra una ragazza di Tolfa e un ragazzo di Anstilem. Questo è quello di un uccello finale. Tutto può essere. Tutto può essere. Sì, sì, tutto può essere. Una delle cose, delle sorprese durante una delle nostre visite. Tra l'altro appena arrivati a Malta fumo ricevuti dall'allora Presidente della Repubblica Feneca Dami. Però in quell'occasione ci fu una sorpresa grande perché quando siamo andati ad Anstilem ad attenderci con la banda musicale c'era l'inaugurazione di una piazza che era Piazza Tolfa con tanto di ricostruzione della Rocca, una delle piazze principali di questo bellissimo paesino. Quindi veramente un rapporto splendido di grande amicizia, di grande collaborazione. Siamo anche coinvolti in una serie di piccoli progetti europei che stiamo portando avanti insieme. Quello che credo sia l'obiettivo comune è quello di creare una crescente amicizia tra i cittadini coinvolgendo in particolare i giovani e le scuole come abbiamo fatto in questi anni. Senza ombra di dubbio grazie anche all'avvento dei social network. Penso che quanti già si siano regati ad Anstilem e qua a Tolfa riescano ad intrattenere dei rapporti epistolari anche quotidiani scambiandosi informazioni. Quindi instaurando anche dei rapporti d'amicizia molto più stretti, tanto da poter pensare ad una seconda famiglia o ad un secondo fratello e tutto così via dicendo. Però una domanda sorge spontanea. Loro vi hanno dedicato Piazza Tolfa con tanto di Rocca. Noi abbiamo dedicato Piazza Europa a tutti i nostri gemellaggi perché Anstilem è un po' più complicato rispetto a Tolfa da scrivere come indirizzo. Quindi abbiamo Piazza Tolfa, però all'ingresso del paese che ha scritto che siamo gemellati con Anstilem e anche con Dingle finora che è una splendida cittadina irlandese e poi credo che nelle prossime settimane l'amministrazione comunale annuncerà anche in maniera più formale un nuovo ulteriore gemellaggio che apre ancora di più i confini del nostro paese. Un paese senza confini quindi al di là della carta geografica che la riconosce dal locale al globale come si suol dire. Un'ultima domanda quanto si fermerà la delegazione? Una settimana parteciperanno anche alle ricorrenze organizzate per Sant'Antonio Abbate, quindi Roma, Tolfa e Sant'Antonio Abbate, tra natura, cultura e tradizione. Sicuramente anche amicizia. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, sicuramente è stata una puntata interessante anche perché siamo riusciti ad uscire dall'Italia direttamente, ci siamo regati con la mente e l'immaginazione in altri posti. Ringrazio anche i nostri ascoltatori di Radio Stella Città e i nostri telespettatori che lascio fra qualche minuto con il telegiornale.